Sarà restituito in autunno la chiesa di Santa Maria della Tomba a Sulmona e il prezioso dipinto rubato tra la notte del 3 e 4 agosto 1993. 24 anni di indagini ininterrotte, alla fine carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Ancona lo hanno rinvenuto mentre stava per essere venduto da una casa d'aste di Genova. Stamani in conferenza stampa è stato riconsegnato nelle mani del Vescovo della Diocesi di Sumona Valva Angelo Spina, dal Maggiore del nucleo TPC Ancona Carmelo Grasso e dal Capitano della Compagnia Carabinieri di Sulmona Florindo Basilico. Tutto partì da una denuncia dell'allora parroco il compianto Monsignor Regno di Nino, un lavoro meticoloso, quello compiuto dai militari che hanno salvato la prestigiosa opera sacra. Lei ha il polso della situazione sicuramente, quanto è diffuso questo fenomeno del furto di opere d'arte sul territorio nazionale? Allora i furti di opere d'arte ci sono, siamo in calo perché adesso si è presa coscienza di catalogare i beni, di dotare i luoghi dove stanno questi beni di difese passive e di allarmi, quindi i furti sono calati anche per questo motivo. Venire derubati e venire sottratti da questa bellezza e da questi segni che la fede ha ispirato è una cosa grave, ma quando queste opere vengono ritrovate e ritornano c'è veramente la grande gioia. Il dipinto Olio su tela 180x22 di autore ignoto databile intorno al XXVIII secolo di scuola piemontese raffigura la Madonna in trono con i bambini, varie figure religiose e i piedi della tela in primo piano Santo Mobono, l'uomo che aveva messo in vendita il dipinto e indagato per ricettazione. Alla conferenza stampano presso parte anche Anna Colangelo della sovrintendenza dei beni culturali e Don Maurizio Nanarone, vicario generale.